Salve a tutti ragazzi, eccoci qua ritrovati in questo nuovissimo video, siamo tornati con la carriera natura e col Cagliari dopo la bellissima live che abbiamo fatto lunedì sera nella quale mi avete suggerito una marea di giocatori, io infatti vi ringrazio di ciò perché comunque mi avete aiutato molto abbiamo fatto un ottimo acquisto che è lui, ve lo faccio vedere subito, che è Valverde, un 82, ho dato Puig, mi son preso Valverde, gli ho dato 9 milioni e ci sta come alternativa, una cosa che abbiamo fatto ottima è forse dare Jaimemata per il Bomber Leao, che mi avete detto di prenderlo già da svariate stagioni c'è un piccolo problema che momentaneamente io non lo posso comprare perché non ho una lira, quindi la situazione è un po' complicata fino a quando non riesco a vendere praticamente qualche giocatore, io non posso prendermi Leao ed è un... sarebbe una grossa perdita io qualcosa l'ho accettata, mi pare, sì, però se non mi accettano nulla io... io due le ho accettate, ma se non me le accettano non posso proprio comprare nessuno di conseguenza oggi dobbiamo sfidare la SPAL, ovviamente non con i titolari ma con i panchinari, quindi farà l'esordio da titolare anche Valverde io vi chiedo di lasciare un like, di schiacciare il canale se lo avete fatto, facebook e instagram come sempre lo avete qua sotto in descrizione e detto ciò, niente, andiamo a giocare prima partita di oggi, Cagliari SPAL, prima partita da titolare di Valverde, io spero cresca molto, diventi forte e che ci faccia vincere qualcosina soprattutto perché siamo in corsa praticamente ancora per tutto, siamo in semifinale di Coppa Italia che faremo venerdì in campionato non siamo messi malissimo, anzi siamo quarti, in più la Champions, dobbiamo sfidare il Barcellona, però non mai dire mai primo gol di Valverde, primo gol di Valverde perfetto, è iniziato la sua stagione e la sua nuova vita a Cagliari, benissimo super Mata, super Gomis, comunque mi sono dimenticato, abbiamo coprato anche Todiboda al Barcellona grande Gravenberg, peccato che non c'entri la porta super, super, gol di Holland anche Gravenberg prova a timbrare il cartellino con un assist di Valverde, ma Gomis è bravo raga, la SPAL senza livello ultimate, tolto il tiro di Gravenberg, è una squadretta da nulla, si vede proprio super Davis, 3-0 al trentesimo, ormai è chiusa Valverde doppietta, calmiamoci un po' perché perfetto, andiamo a fare vari cambi tra cui Valverde che mi servirà sicuramente nella prossima parità, quindi ci buttiamo Hollis Davis che mi servirà sicuramente, quindi andrò a buttarci un Faragò e poi un Holland perché vado a buttarci un Danielino ragazzo alla fine ho tolto quelli che vengono principalmente cambiati sempre perché comunque nella squadra titolare quelli entrano praticamente ogni partita bravo Danielino, tentala è tornato, è tornato Danielino col gol glitch questo è l'unico giocatore che ha avuto un overall bassissimo anche nell'altra stagione in Europa League mi aveva fatto 3 gol in tipo 4 partite in Europa League e l'avevo fatto giocare anche abbastanza poi raga abbiamo una leggenda come Faragò ancora in squadra ci vuole comunque coraggio a schierarlo ancora in campo anche Hollis piano piano mi sta migliorando tantissimo e diventerà un grande giocatore peccato che non segna quasi quasi stavano per segnare io un gol a partita di solito lo subisco per quello bello Mata bello Hollis che l'hai lanciato Mata piazzalo ma vaffanculo ma secondo voi segna ma quando mai oh chi è? Todi Bo primo gol con la maglia del Cagli gli ho reso la manita che mi hanno fatto loro all'andata esordio da titolari per due giocatori tutti e due in gol uno è andato anche in doppietta però e tre punti ce li siamo portati a casa allora questo Hollis veramente è strano cioè ah vuole proprio giocare anche titolare adesso allora io ti mando in presito mi hai rotto il cazzo no 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 a me è uno che comunque lo fai giocare ma vuole sempre di più no è l'unico che mi sta creando dei degli scompigli vattene in presito va e non provare neanche a mucciare mi hai rotto allora nove email trattativa sfumata per Leo porca miseria ok dai sei contento siamo d'accordo comunque porca puttana stop alle trattative per Wilson stop alle trattative per Bianda eh vabbè raga abbiamo 23 milioni non comprerò nessuno mi terrò mi terrò amata mandiamolo in pensione con questa rosa cosa devo ok il porto mi ha chiesto Hollis io l'accetto per un anno e vediamo un po' la rosa un po' va a stringersi quello sicuramente e quindi mi devo prendere qualcuno in prestito veloce anche perfetto ho preso già un un giocatore ottimo Kuluzeski un anno in prestito si accetta il giocatore è fatta mi sono già ripiazzato all is e siamo praticamente a posto così però è talmente bastardo che mi ha rifiutato la trattativa vabbè raga giocheremo senza senza ragazzo cioè vorrei dire che ci sarà più spazio per altra gente cioè siamo pieni di comunque di giocatori vero si non so chi ma comunque qualcosa me lo inventerò datemi datemi fiducia abbiamo Jesus lo si butta come jolly da tutte le parti non me ne frega niente anche benfica vuole marione ballotelli ma no adesso che mi serve mario non lo posso prendere perfetto andiamo veloce a fare reso il conto mensile della primavera cercando di mandare gente più possibile via perché tanto so che molta gente sarà da mandare via perché vedo che non ci sono miglioramenti onde evitare problemi la maggior parte tra un po' iniziano a andarsene un'oliva sette settimane di stop boom non ho preso nessuno mi sono già messo nella merda vabbè non fa nulla non fa nulla troverò il modo troverò assolutamente il modo momentaneamente dal brasiliani ne ho preso solamente uno poi spagnoli ortizzi no lucero no romero no davvero no diaz no bello lo possiamo prendere benitez non lo prendiamo c'è l'ultimo che è l'italiano va a fare napoli me lo piglio conti non me lo piglio mariani me lo piglio esposito non me lo piglio bruno non me lo piglio e l'altro bruno me lo piglio si è concluso anche il calciomercato siamo un po' nella cacca perché comunque non c'ho i i cosi però da frello che mi è arrivato il resoconto adesso certo che devi giocare al madà perché non dovresti giocare scusa perché non ho messo la formazione titolare ecco perché in panchina mi sa che c'è oliva esatto e oliva farà posto a faragop questi ci abbiamo e questi utilizziamo portiamo todiboh in panca esordio nella prima squadra no non è proprio esordio per salibà salviamo tutto Nengolan sta calando un po' troppo mi dispiace per Nengolan però è ancora il nostro punto fisso voglio vedere due secondi prima di giocare dove sta Elsa Suolo sta a quattordicesimo quindi dovremmo avere una partita un po' facile sempre quei dieci punti dalla Juve che ne ha persa una cioè ne ha pareggiata una porca miseria io ho vinto e perso momentaneamente ha pareggiato proprio zero si sta andiamo oh raga continuiamo sto momento splendido voglio tre vittori su tre oggi perché dal prossimo video inizia a farsi veramente seria la situazione vogliamo recuperare più punti possibili andare bene sia in Champions in campionato e in Coppa Italia dalla prossima sarà veramente tosta bravissimo Cragno sti difensori e vabbè dai salibasi deve un attimo ambientale ancora ottima quest'azione ottima quest'azione dai Almada dai Almada e fammelo un gol ogni tanto che quest'anno proprio da quando ti ho cambiato il ruolo stai giocando abbastanza bene ma non segni proprio mai ha più gol tra ore e Nandez vaffanculo chi cazzo il portiere sempre consigli penso porca miseria sì e consigli il portiere bravo balo ma centrale però dai ci sta vai trattore vai trattore l'hai visto segna no c'è il difensore ma come meno male sta avendo qualche problemino balo ultimamente è già un bel po' di partite la live di lunedì non ha fatto manco un gol e ne ha giocato quattro quindi è grave oggi momentaneamente non ha ancora segnato c'è qualche problema per balo o sente la pressione di holland che sta iniziando a giocare sempre meglio o è la vecchiaia ma ha 31 anni che cazzo di vecchiaia vuoi avere gol alla hozlek manco con consigli oggi funziona balo che fa gli assist ma minca c'è consigli che sta facendo veramente di tutto bravo Almada criticato ogni tanto segna ancora il nostro CR7 argentino bello bello please ottimo ottimo torna indietro hai visto Raja sfonda no Raja ho preparato tre cambi spero il pallone esca praticamente subito che sono chi cavolo dovevo togliere il numero di ah si Nengolan ed entrava il verde tolgo Traoré ed entrerà Davis e poi Ozlek per Holland gordotte che cazzo di sfiga che c'ho non ci voglio credere che pareggio così che gol di merda proprio che mi hanno fatto vai Davis c'è la prateria Davis 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 ma come cazzo è possibile consigli no fuorigioco non mi dovevo fischiare fuorigioco ma è uscito il portiere eh vaffanculo fischiami anche questi fuorigioco adesso c'è il coraggio bravo Sandrino e ballo non avrà segnato ma momentaneamente a due minuti dalla fine mi ha dato la vittoria allora la partita teoricamente è finita siamo a un minuto oltre ok rinvia senza prendere nessuno abbiamo vinto allora suggerimenti per che cosa ancora la fascia da capitano non te la darò mai e Worsford vabbè è interessato a Leao ma io purtroppo anche lo Schalke io me lo so fatto sfumare l'occasione d'oro non c'avevo una lira allora problema abbiamo un livro infortunato devo inventarmi un nuovo ruolo no perché un nuovo ruolo basta buttarci Faragò titolare e ci portiamo in banca Jesus al suo posto fatto risolto il problema che problema c'era possiamo giocare così cioè perlomeno ok Faragò mediano che è il capitano Faragò giustamente andiamo a giocarci sta partita contro il Parma attenzione alla classifica eh siamo allontanati un po' dal Napoli che comunque ok ha giocato ma prima nella partita scorsa ha perso buono 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 non siamo lontani non siamo assolutamente lontani da stavetta si può fare terza ed ultima partita a Parma Parma Cagliari in trasferta vinciamo questa facciamo 3 su 3 e diamo una scossa veramente al campionato forse bello Pajak no no torna indietro tentala va bene lo stesso ma buttala in mezzo ci sta dai stavolta hanno i segni di punizione è vero non riesco a sfondare le linee difensive del Parma è il gol no no sembrava gol quello di Armini invece è andata fuori di brutto no Holland Gravenberg c'è svegliato Vindu e ho quel pallone lì bella punizione guadagnata qui da Mata possiamo provare a sfondare con chi però qualcuno che le sappia battere in maniera un po' più decente no ah Holland spero via parate vabbè ma che cosa deve tutto bene poi una busta di tiro allora dopo questa bruttissima conclusione che avete visto dove è finita non avete visto meglio dove è il tiro ho fatto tre cambi ho tolto praticamente Mata Davis e Valverde e ho buttato Ragazzo Almada e Ozzlek Ozzlek che fa il laterale per la sua prima volta da quando viene da quando è venuto a giocare a Cagliari addirittura un pareggio mica mi sembra sprecato dopo tutto quello che ho creato quel poco però intanto l'ho creato mi penalizza il fatto di non avere Oliva e ve lo giuro non avere Oliva mi sta mettendo in crisi potente ho ricambiato nuovamente il modulo 3-4-3 vedetemi 5 minuti raga ragazzi è bloccato tutto Holland ti prego ti prego ti prego sì il difensore ha fatto la cazzata mancano due minuti però ormai il modulo lo lascia mancano tre minuti cioè due minuti più recupero ok finita i campi che ho fatto alla fine sono risultati completamente inutili perché hanno fatto dieci minuti scarsi non hanno toccato pallone però va bene cioè alla fine ha segnato Holland che era uno dei titolari però cazzo era meritata scusate un attimo c'è balo ma stai scherzando balo sei perennemente titolare e ti lamenti ok ci fermiamo qua nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus non dovremmo farne altre di Coppa c'è il ritorno come mettermi in merda contro la Juve proprio lo sa fare solo FIFA cioè vabbè prossimo video faremo ovviamente la semifinale il Napoli e la Fiorentina vi dico già che giocherò con i titolari sia con la Juve sia con il Napoli perché voglio arrivare con i panchini nella Fiorentina perché la Champions è forse è la cosa più importante a cui tengo poi con lecce i panchinari con la Juve i titolari dovremmo gestircela così 1-1-1-1 o 2-1-2-1 l'avete visto pure voi abbiamo due rose due rose competitive due rose forti di conseguenza cerchiamo di tenerli tutti contenti e di portare a casa dei risultati fondamentali detto ciò vi creasciano un like ti schiacciano se non l'avete fatto Facebook e Instagram come sempre lo avete in questa descrizione con la carriera col Cagliari ci vediamo direttamente venerdì alle 14 e domani ci vedremo con Marco 4 goli in Coppa Italia stavo dicendo ci vedremo domani con la carriera giocatore in semi mi raccomando buon proseguimento di giornata bella con la carriera